Se realmente dal primo marzo gli orari dei traghetti della compagnia CarTour subiranno le modifiche previste, i mezzi pesanti in viaggio tra Messina e Salerno saranno in coda al molo Norimberga, non più solo nella tarda serata, ma anche nel primo pomeriggio, provvedimento che si traduce in un aumento del traffico di tir in città proprio negli orari di punta, visto l'imbarco delle 15. Inmediata la reazione del comitato, la nostra città da anni in lotta per contrastare la circolazione degli auto articolati nelle arterie del centro urbano, in seguito ai numerosi incidenti stradali, spesso fatali, come quello del signor Natale Lembo, investito e ucciso da un tir nel settembre 2012, mentre attraversava la strada in via La Farina di fronte al suo negozio. Avevano già in programma una manifestazione il 28 febbraio i rappresentanti del comitato e adesso probabilmente la mobilitazione verrà anticipata per protestare contro questo nuovo calendario della CarTour. Saro Visicaro, rappresentante della nostra città, deluso dall'inerzia delle istituzioni locali, traccia un confronto tra le due città coinvolte. A Salerno il sindaco si è schierato cercando di gestire la presenza dei mezzi pesanti adeguandoli alla mobilità urbana, sostiene Visicaro. A Messina probabilmente non si riesce a mantenere una posizione stabile e definitiva sull'argomento.